Un caso di cronaca anche, il caso del capitano De Falco. Allora, la moglie, dai racconti che abbiamo andato dalla polizia, ha parlato di un'aggressione anche fisica, lei ha la figlia. Lui, parlando, dice Di Maio ha smentito, dice non c'è stata alcuna aggressione. Di Maio però ha detto parlerò con la signora De Falco. Lei ha notizie di questo colloquio? No, non ho ancora notizie di questo colloquio. E' chiaro che è una situazione che va approfondita perché se ci fossero elementi reali, De Falco non può essere compatibile con il Movimento 5 Stelle. Però bisogna indagare, c'è una casa di divorzio in corso, da quello che ho capito. Ovviamente, quindi Di Maio non sa neanche se Di Maio l'ha chiamata la signora De Falco. No, non lo fa ancora questo.